BIMAR VT455 Silente Ventilatore da tavolo silenzioso con elica da 40 cm Pannello comandi in acceio inox con manopola retroilluminata per accendere e selezionare le velocità 1, 2, turbo e funzione silente È molto silenzioso, meno di 12 decibel La ventola a 5 pale aumenta e rende più efficace il flusso dell'aria Unità ventilante orientabile in alto e in basso a tre posizioni Tasto per attivare l'oscillazione a destra e a sinistra Griglia di protezione in metallo con maniglia posteriore per un comodo trasporto Griglia di protezione in metallo con maniglia posteriore per un comodo trasporto